Ingredienti Dosi per 4 persone 400 grammi di maltagliati all'uovo 20 grammi di fiori di zucca 2 cucchiai di pan grattato 2 spicchi d'aglio 1 tuorlo 1 ciuffo di prezzemolo Olio Sale e pepe Preparazione Mondate Lavate e tagliate a metà nel senso della lunghezza i fiori più grossi Fate rosolare l'aglio schiacciato in 4 cucchiai d'olio Eliminate l'aglio e sostituitelo col pan grattato Fatelo odorare Aggiungete i fiori di zucca e cuocete per qualche minuto a fuoco vivo Salate Pepate e spegnete il fuoco Nel frattempo avrete cotto la pasta che condirete con il tuorlo Versatevi poi il sugo Unite il prezzemolo tritato Pepate di nuovo e servite Il piatto è pronto Buon appetito!